Alcune buche sono presenti da tempo, soprattutto in certe aree della città, che sono comunque trafficate e utilizzate dai cittadini che scelgono di lasciare la macchina in garage e di uscire a piedi. Ma spesso il loro percorso è costellato di ostacoli, di pericoli, create dalla presenza di dislivelli sui marciapiedi che possono provocare danni, come in via Ipocastani. Mia madre è caduta, si è fatta male, mia moglie è caduta, si è fratturata una scapola. Io purtroppo questa situazione la sto subendo in primis e purtroppo faccio da badante a due persone che sono cadute sui marciapiedi. Quindi sì, la situazione è veramente incresciosa, non riesco a giustificarla, perché comunque si parla tanto dell'attenzione ai fragili, ma a questo non c'è. No, non ci siamo, sono molto deluso. Quando parlo con gli amministratori sono proprio insensibili, delusione totale, veramente si parlano, parlano, cercano di farsi vedere attenti, ma nella realtà dei fatti questo non succede. Molto pericolosa, tanto che quando ero incinta di mia figlia, che adesso ha tre mesi, sono purtroppo caduta su una strada dove ovviamente mi hanno soccorso un pochino tutti, dicendo che le strade appunto sono veramente disastrate, infatti hanno messo tante piste ciclabili, ma secondo me avrebbero dovuto fare le ristrutturazioni della strada, proprio perché sono pericolosissime. La strada è piena di buche, marciapiedi uguali, tutta la città sinceramente, perché andando anche con la macchina c'è tutte le strade. Non vedo mai la gente perché vado sempre con la testa giù. Con tutto quello che paghiamo sarebbe ora che sistemassero anche le strade, giusto? Anche perché i marciapiedi sono importanti per le signori, specialmente della mia età. Questo è privato e questo è del comune. È un marciapiede grosso, però la differenza si vede. Una situazione dunque che necessita di interventi importanti per garantire la sicurezza delle persone, in particolare quelle meno giovani, quando escono di casa e percorrono a piedi le vie della città.